Un focus sul tumore al polmone e sui gom, ovvero i gruppi oncologici multidisciplinari composti da professionisti che grazie ad un lavoro di confronto riescono a fornire la cura migliore al paziente. La terapia del tumore al polmone è cambiata negli ultimi dieci anni. Siamo passati dalla sola chemioterapia per le fasi avanzate a farmaci biologici mirati a cure personalizzate che riattivano il sistema immunitario o che vanno a colpire quei recettori che sono iperattivati dal tumore al polmone e li vanno a spegnere. La prognosi, chiaramente parliamo di situazioni che non sono generalizzate ma ogni paziente viene valutato dal punto di vista molecolare e viene pensato a una terapia specifica. Siamo passati a una prognosi, una malattia avanzata di pochi mesi che nei casi in cui ci siano determinate mutazioni del tumore e quelle per cui abbiamo farmaci a disposizione la prognosi di un paziente con malattia avanzata è passata da alcuni mesi a qualche anno. L'iniziativa è stata anche un'occasione per coinvolgere pazienti ed associazioni che si occupano di questa patologia che hanno potuto partecipare anche grazie al supporto della Fondazione Cesalpino. In questa giornata noi ovviamente ci incontriamo come professionisti che lavorano fianco a fianco uniti in questo tipo di patologia per discutere gli aspetti organizzativi, le novità e la possibilità di offrire una risposta sempre più efficace con terapie più specifiche, più personalizzate a questi nostri pazienti. In più ovviamente in questo tipo di attività di squadra sono coinvolte anche le associazioni dei pazienti ovviamente che sono rappresentative di questo tipo di problematica e ad Arezzo ne abbiamo anche la Fondazione Cesalpino che è un volano dal punto di vista della diffusione di questi contenuti sia scientifici che sociali. Grazie.